musica 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 che sorpresa per quel medico musica 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 l'ho prosato la peggior cazzata che poteva fare un altro colpetto oh, no, dietro oh oh, vai fire musica no via non lo vedo non lo vedo lo so no per i alo 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 per i soldi a tirata sono ancora di sono delle cure se lo date non vedo coso no 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 ok via ciao bello bello il vaccinatore eh bellissimo piace anche a me beh certo Luizio ok è uno quanto è bella l'upper carica eh cambio cambio no no Luizio 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 non sono luberato non sono luberato lascia non ho capito ok vai 35 scappa scappiamo 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 ok ok dietro 25 no 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 vai vai un ultimo colpo e ci abbiamo il culo lo swing lo swing lo swing finale niente swing finale mi sa ce l'ho ce l'ho oh cazzo uno no 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 ammazza il pyro ammazza il pyro il pyro il pyro il pyro il pyro il pyro fra il pyro fra il pyro fra il pyro aspetta lo stout è stupido sono tutti stupidi ah c'è uno scout 100 100 ok ok possiamo recuperare possiamo recuperare bene si muoveva in nel modo più sospetto possibile è morto è luber è morto calme no mi servi mi servi morto vieni qui cambio ma no ok a posto a posto a posto vado io vado io no perchè a me che serve l'uber io non te l'ho l'uber qui cazzo oh porca miseria io non te l'ho lo stupro lo scout uf 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 se non era per quello che scuola Dai Non li riuscivo a fare un muro Un altro Un altro No Siamo circondati Siamo circondati ma non morti Che dici? Come attacchiamo? Uno Due Tre Ok vai andiamo alla testa Accendi Accendi No No Ho fatto Vai Hello Uno Hello my baby Hello my baby Hello my baby Agnoia Ti stanno inseguendo Uno L'altro L'altro Ok ce l'abbiamo Andiamo e ce ne andiamo Si insegono Si insegono Vieni giù Cos'è? Troppo lost Non andrà nessuno Chi va per primo? Oh ma c'è un pyro qua Ah il problema è che è un pyro bravo Cazzo 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 Attiva 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 Ok Eh lo sapevo Non ti preoccupare È andato lo stesso È andato lo stesso È andato lo stesso Senza munizioni Che vuole fa? Sto scemo Poi andiamo Posa Posa Devi posare però Ok Ok sto bloccando Sto body bloccando Sto body bloccando Sessanta e cinque Colpisci Colpisci a fondo Dove sei? Che? Uh Culo Beh Sessanta e cinque No Selle ripresa la vita Sessanta e cinque Sessanta e cinque Mi manca poco No A 30 HP Allora A 30 HP Ah 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 No Grazie C'era Puck Aggro Oddio È tutto Per la nozione Spawn potencial Abbiamo un problema Stao spawn Campando Ok 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 Faccio così Tra poco attivo Looper Aspetta 3 2 1 Attivo Ok Benissimo Ah che fai, ah che fai Ho fatto, e questo è fatto Ho fatto anche l'altro Ciao bello Ci paga due Ehi ti ha fatto male Oh 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 lube Ello Via via Oh cazzo Ah, uno Aia, pure E, sì Buongiorno Cambio Oh no Ti ha attivato il bug Luizzo Ok, ci sono due Luizzo, in acqua Vado, vado Mi godiamo a metà Sì No, che cosa Aspetta Mi scogli indirmi Un DG Oh Attieni, vai Come stai messo? C'è qualcun altro No, non più No, non più Non più Ok 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 Dove voi andare? Dove voi andare? E beh, che ti metti! Dove volete andare? Ciao Belve Dove volete andare? Dove volete andare? Oh, ora! Dove volete andare? Dove volete andare? Arrivederci! Un golpetto! Ok, ce l'ho! Vai via! Hai ragione! Vai, sparami con una delle tue principes! Vai vai vai! Ah, ti è piaciuto? Ci sono io! Un luber, un luber! Stiamo calmi, un luber! Un luber! Quello che pertanto... Preso! Dove sei? Dove sei? non ho finito l'ultimo l'onore resisti vai esisto si si esisto sempre no no resisti ok dietro ce l'abbiamo pyro mi ammazzo tutti vai 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 attiva 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 qui si fa streggio di cuori si cambia mi sono salvato da un critico e è andato tanta gente scappiamo e vediamoli attiva 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 q2 fatto a telo tu 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 tu. L'ho pulito, andiamo via Ha funzionato? No Ehi, l'antazzaro, beh E' sportivo come uomo Cazzo quello lì, vai via Vai mettere un po' via Uno, due, tre Mi servi Ritorna dietro, torna dietro Vabbò Sto vedendo dove vai, ok L'ho fatto L'ho fatto, sono un codato stronzo bastardo Vabbè, che scampa Ha ha Ok Cambio, cambio E' l'ho Dove vuole andare? Dove vuole andare? Dove vuole andare? Siamo come le puttanele qua Aspetta, però devo attrarre la loro attenzione Devo avere degli atteggiamenti Zen, Zen, quello non sei Ok, ok, ok Quello è Zen Si Lol, avete fatto una volta di più Mi sono offeso Begon Begon Ok Poi ripassare la palla Scoud Nice Vai vai vai, vai Ehm, baitare Ehm, yes Transformazione Haha Come si fa un zuccio? Vai Io? Ti ricordo quando eri vivo? Oh, in acqua, vai in acqua, in acqua, in acqua Aspetta, 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 aspetta Non c'è, 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 non c'è Nice, nice C'è il mondo qua sotto Cosa? Cazzo Cari Uff E l'ho Vai, picchia il resto Ho anche una spia dietro E' un problema più che altro Spyro, 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 spyro Mi manca un colpo? Ok, vai Ma da quanta gente! E' diventato un acquario Cambio, cambio Sono lieto Ok Attenzione al cecchino Ho missato il critico al pyro Si No, piss Oh, 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 attiva Ehi! Ok, Chris, stai pronto? Stai pronto a fare cambio? Sì, sì, ci sono Vai Sì, sì, ci sono E lo? Uff No! Cicchino Ce l'hai Dammi Yes L'ho tolto Ok Si se ne va, si se ne va Facciamo, facciamo finta che siamo in difesa Ci vado io! Oh no Oh, buongiorno Allo se cullu critca Pocchino Ah, oddio Ah, ma, eh Ah, eh E' una Ah, c'è Coomba di Cosìa, è morta Oh no Quanto ci scommetto che c'è uno scout? Sper La prima cosa che vedo è qualcuno che sa No, c'è un pyro, c'è un pyro gold attack E io Senza finire Non ci sono No Vista Non ci sono Non ci sono No Ha 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 Oh no! Ero quattro! E perchè erano tutti? No lo so! Secondo me vanno a fa' il giro! Fanno il giro! Sta sopra! Escemo, 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 escemo! Dio! Ehi! Wait a minute! Ehi! E' quello! Signor medico! Va bene, ti disindiccio io! Ormai ci stiamo! Ehi! Oddio! Oh che f***io! No! Eh, ho laggato in quel momento, che è successo? Cioè ho capito che è successo più o meno! Ah, ha pure il retro bruciatore! Sì però è stato separato uguale! E' finito! Quel tizio è morto! E' morto! Picchialo, picchialo, picchialo! Scusa! Eh sì, solo che quello scout ha un cazzo di vita! Sono un master! Masterchef! Soch stai armi, sostanzialo! Soch stai armi, sostanzialo! Soch stai armi, sostanzialo! Soch stai armi, fautUs samom только attendo! Soch stanzialo! Grazie a tutti.